hola a todos benvenuti in un nuovo video oggi vi faccio vedere la mia postazione aggiornata questo video l'avevo fatto un sacco di tempo fa e sono cambiati un po di cosine migliorate devo ancora fare delle migliorie degli spostamenti siamo organizzati un pochettino meglio ma devo dire che la amo follemente mi piace davvero tantissimo adesso vi faccio vedere tutti i trucchi adesso sono i distribuiti tra il mobiletto e la cassettierina li ho trasferiti dal po nata minuterie che avevo decorato ma lo tengo perché c'è un po di cartopazzo un po di tutto e poi queste è l'angolino dei dei bijoux ma vi faccio vedere appunto la la postazione iniziamo con la parte superiore tutta gufettosa con il portafoto regalo di franci questi gufettini regalo di ali invece questo adesivo l'avevo acquistato su aliexpress altro regalino di ali e invece questo è un regalino di soffi un lavoretto che aveva fatto alla materna tra i due mobiletti tengo la sedia sentra visto le pijama si sono ancora in pigiama oggi volevo fare il video del trucco quello un po strano che vi è piaciuto tantissimo su instagram è però non sono molto in forma e quindi oggi è andata così poi il mobili qua su questo su questa cassettierina tengo la new entry il portarossetto girevole che ho acquistato su amazon lo trovo super pratico davvero molto comodo perché c'è un impatto visivo immediato e quindi i rossettini si trovano con molta più facilità devo però credo ma quasi sicuramente spostare le tinte labbra perché le altre sono nel cassettino non ci sono stati tutti e quindi insomma devo cercare di migliorare ulteriormente troppo troppo carino poi in questo bicchierino altro lavoretto di soffia la materna tengo lo uso per le votive questa è una yankee ed è fantastico perché non si spreca praticamente nulla ottimo 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 invece in questo brucia essenze che avevo acquistato dai cinciu molto essenziale semplice ma mi piaceva tantissimo abbinato appunto al mio angolino questa invece è una candelina ma mi dimentico sempre il nome è un acquistino che avevo fatto su machialia è una candela vegana poi ve lo dico è mi piaciuta tantissimo con il primo utilizzo proprio un profumo forte persistente bello acceso però poi è rimasto un pochettino l'ho riaccesa un ulteriore la seconda volta e ho perso tantissimo quindi non vorrei che bisognasse utilizzarne veramente poco terminarla e poi utilizzarne delle nuove quindi poi proverò vediamo con i successivi utilizzi cosa succede in questa cassettiera bianca semplice che avevo acquistato da confortama che ho personalizzato con i guffetti strassosi acquistati dai cinciu troppo bellini l'ho organizzata invece così nel primo cassetto ho messo tutti i pennelli le spugnette quelli che non tengo sulla postazione perché non ci stavano nelle tazze quindi spugnette il brush cleanser i pannetti pennelli sono la valore le silicon sponge quindi tutto qua in ordine però portata di mano nel secondo cassetto invece in lo spazio qua c'erano i rossettini in un'altra in un'altra scatolina ho recuperato lo spazio e organizzato tutti gli ombretti mono sono tutti in polvere tranne questi qua invece che sono in crema ne ho molto pochi qua ci sono le tinte labbra volevo organizzarle diversamente però alcune in piedi non ci stanno perché sono troppe alte quindi devo escogitare qualche altro qualche altro modo qua ci sono alcune pocettine il terzo cassetto invece angolo dedicato alle palette un po di tutti i tipi c'è anche quella acquistata su aliexpress per i trucchi un po più particolari ci palettone con le grandi grandi componibili degli ombretti mono poi ci sono due new entry che poi vi faccio vedere nel video haul vediamo se le sgammate poi mini palettine piccoline queste tutte le palettine piccoline che tengo tutte qua quarto cassetto anch'esso per gli occhi però un po misto perché ci sono altre palette un po di tutti i tipi e poi c'è un piccolo angolino per piegaciglia e ciglia finte ci sono gli ombretti in crema quelli però in tubetto con l'applicatore poi eyeliner colorati eyeliner neri mascara e invece nell'ultimo cassettino c'è tutto ciò che riguarda il viso vedete questi praticamente alcuni contenitori ecco qua questi qui dove ci sono i mascara sono queste scatoline che avevo acquistato dei cinciu che trovo molto molto pratiche peccato non averle trovate un po più lunghe le avrei utilizzate molto molto volentieri qua ci sono i fondotinta poi alcuni correttori e palettini di correttore che ho di scorta alcuni che non ho ancora utilizzato di fondotinta poi qua c'è l'angolino per illuminanti correttori illuminanti in crema, ciprie, terre, tre ciprie, tutti illuminanti questi due sono illuminanti perché non ci stavano in questo angolino e poi ci sono i blush quindi qua tutti 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 i blush e questo è il contenuto della cassettierina come l'ho organizzato invece il mobiletto che è un semplice mobiletto da pc che però ho riorganizzato decorato e personalizzato per renderlo appunto il mio angolino adesso vi faccio vedere anche il lato delle... sono uguali questa è una carta adesiva semplice che avevo acquistato dai cinciu che ho fatto a mano io il guffetto e quindi l'ho decorata così con gli occhietti che sono delle perline e invece i guffettini piccolini li ho realizzati con la dima avevo una... ho una dima... cioè ho un guffo una limetta a forma di guffo e l'ho utilizzato come dima gli occhietti sono altri strassini però colorati lo trovo molto bellino e particolare invece il banco anch'esso decorato con la carta adesiva che avevo acquistato dai cinciu questa è doppia perché c'è sotto questa fucsia e bianca e sopra vedete questi fiorellini un po' in rilievo questo è trasparente e l'ho messa sopra a proteggere però è stato un po' di sfigaggine perché quella sotto si era rovinata e l'ho rattoppata con questa che non c'entra niente però vabbò Roby me l'aveva un po' rovinata perché mi ha montato la luce e qua c'è finita la colla a caldo ma la cosa che non riesco a sopportare più è il fatto di non riuscire a pulirla bene perché mi è cascato un po' di rossetto non sono riuscita a farla andare via neanche con lo spazzolino quindi la cambierò ho già trovato dai cinciu la carta mi sono scordata di prenderla il giorno l'ho appoggiata e poi ho dimenticato di prenderla speriamo di trovarla perché i colori erano bianco e rosa quindi come piace a me quindi questo è il mobiletto come l'ho decorato ma questo lo cambierò appena potrò questa mensolina me l'ha creata Roby perché non c'era ed è molto molto fantastica non si può dire ma non fa niente è molto molto pratica e mi piace tantissimo io ho passato la cementite perché era appunto color legno e poi Roby mi ha messo anche le lucette al led la striscia led così mi posso truccare anche se non c'è tantissima luce lo specchio l'ho decorato io con i washi tape se vi va vi lascio nelle schede il video so dove lo realizzo molto semplice ma molto più carino da vedere anziché tutto acciaio che non mi piaceva particolarmente sopra la mensolina tengo i pennellini da pulire questa tazza troppo simpatica mi ha regalato la mia cerbiattina in questa scatola di lata che conteneva la tazza a guffetto ho messo le tart della Yankee poi c'è il guffettino che avevo preso dai cinciu in questo barattolino ci sono alcuni campioncini di profumini che voglio utilizzare perché ultimamente sto utilizzando anche un po' di campioncini sia per quanto riguarda le creme che i profumini perché ne ho davvero tanti poi caspita quelli con dei profumi evaporano quindi te li vai a ritrovare vuoti quindi bisogna utilizzarli qua ci sono tutti i profumini di vario genere e qua invece ci sono alcuni profumini piccinetti che non ci stavano in questo poi ci sono creme mani leodorante campioncini di profumini e poi la crema viso in quest'altro contenitore se notate sono abbastanza mi piacciono le cose speculari quindi che vanno a riprendere mi piace molto invece che non sia troppo disomogeneo in quest'altro ci sono tutti i campioncini dei rossettini di Avon poi c'è l'altro guffetto decorativo che mi ha regalato Dona e in quest'altra scatola di latte invece ci sono alcuni prodottini che prima tenevo nell'altra avevo tre scatto tre cestinetti sul mobiletto però ho cambiato la disposizione quindi ho deciso di tenerne solo due e qua dentro ho messo quelli che non ci stavano più quindi ci sono due prodottini della Lush che mi ha regalato la mia sposa poi c'è la cremina Winter Glow che mi ha regalato Sonia e poi un balsamo labbra un gloss più che balsamo labbra un gloss colorato che avevo acquistato da Sephora parfallina decorativa altro decoro con la con la mollettina che mi aveva regalato Dona che uso per mettere degli appuntini sia per quanto riguarda il canale o altre cosettine poi qua c'è il sottopento che mi ha regalato mio fratello ma non lo utilizzo come sottopento l'ho messo qua mi piace da impazzire è troppo troppo carino e qua l'ho organizzato così ci sono qui i pennelli in questa tazza con le labbra che avevo acquistato dai cincio ci sono i pennelli per il viso altro guffettino in queste mini cassettierine c'è nel primo tutti i correttori nel secondo le ciprie e le terre con il buco guarda che brava praticamente ho messo quelle che vorrei utilizzare di più e terminare e nel terzo ci sono alcuni blush e le perle sia in palettina questi sono all over e poi quello in crema invece in questo c'è tutto ciò che riguarda il viso e invece nei cassettini gli occhi quindi qua ci sono fondotinta BB cream creme per il viso un po' di vario genere primer creme viso professional questo non mi viene il nome il primer occhi poi c'è la new entry il magic fissante di marca acqua termale acqua normale e invece qua ci sono nel primo i mascara nel secondo ci sono le matitine occhi matitoni ombretto anche in crema o matitoni qua ci sono le matitine che sono anche alcune per terminare e nell'ultimo ci sono invece c'è una con lo scotch che io uso spesso per truccarmi perché mi piace tantissimo matitine occhi e questo correttore che sta per terminare che invece io utilizzo se mi seguite un po' lo sapete come base ombretto qua invece nella scatola che conteneva il profumo pink sugar di acolina ho messo alcune pennine perché mi piacevano tantissimo i colori ah qua c'è la tovaglietta di Hello Kitty che sarebbe di Sophie poi in questi due bicchierini della Sardegna ho messo in uno i pennellini per il blush quelli più piccolini più bassi invece in questo ci sono le spugnettine qua invece ciò che riguarda le labbra anche lo struccante bifasico vabbè le pennine sono da sistemare tutti i trucchi i rossettini vintage se vi va di vedere il mio video sui trucchi sul mio make up vintage quindi molto molto adattato ve lo lascio anche su nelle schede poi c'è un acquamicellare di Yves Rocher che io utilizzo molto spesso con i cotton fioc che tengo qua sotto per andare a ritoccare il trucco qua invece ci sono i dischetti struccanti in questa semplice scatolina che ho decorato con gli strassini perché è molto pratica non si ha in mezzo alle wallace il tubo grande 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 qua ci sono invece le matite matitone labbra qua ci sono i gloss e alcuni chubby e nell'ultimo invece vuoto ci tengo quasi sempre perché ancora non ci ho messo nulla le scatoline o i prodottini che voglio testare o che sia per collaborazione o invece l'ho acquistato io ma che voglio testare un pochettino di più qua invece ci sono in questa tazza fantastica sarda che mi ha regalato soffi i pennellini per gli occhi guffetto e invece qua c'è un po' di tutto appunto devo finire di organizzarlo ci sono due regalini di ali di sonia poi qua ci sono altri rossettini regalini questi di micchi questo invece è un matitone trasparente questo regalino di angela questi di sonia e nell'ultimo invece tengo il burro cacao e questa è la parte superiore dedicata al make up invece sotto c'è un po' l'angolo anche per le unghie quindi l'aspiratore qua invece ci sono vedete appunto i prodottini questi sono libri che sto testando la lampada qua sotto c'è la mia agenda youtubiana in questi due cassetti c'è nel primo tutto ciò che riguarda si tengo gli swiffer che uso per spolverare gli organizer c'è un po' di tutto per quanto riguarda i bijoux quindi le creazioni di bijoux sono le pinze perline alcune cose anche di unghiette poi invece sotto c'è un po' di tutto per quanto riguarda la nail art quindi c'è i prodottini per il metodo acrilico qualcosa per il semi permanente anche per il gel più accessori qua invece siccome avevo la fresa libera nel senso ho poggiata così ma mi dava fastidio perché stava prendendo polvere ed era disordinata quindi ho preso una scatolina di scarpe di soffi riciclo un casino vedete ci ho attaccato questo bel adesivo di Hello Kitty e ho messo dentro la fresa così è bella in ordine non prende polvere quando mi serve la utilizzo ed è a portata comunque di mano poi ci sono le veline e salviette struccanti e salviette classiche qua sotto tutto per le unghiette primo cassettino c'è tutto ciò che riguarda la preparazione e la struttura dell'unghia quindi lime primer gel monofasico il bianco il septic l'igienizzante quindi top coat e tutto ciò appunto che riguarda struttura e preparazione nel secondo invece c'è tutto ciò che riguarda la decorazione strass paillettes i pennelli vedete gli stamping anche qualche cartina adesivetti nel foil c'è tutto ciò che riguarda mi si è incastrato di nuovo ma può farbacco dove si è incastrato? mi si erano incastrati gli adesivetti col gatto mi sa che al prossimo refill li utilizzerò nell'ultimo cassetto pardon invece ci sono i gel UV anche questi sono cascati sotto perché a volte questo lo devo un po' riordinare ci sono altre altre cosettine per il decoro carino il foil con le labbra acquistato su AliExpress e il regalino di ali troppo bellini poi ho le ruote con i colori dei semi permanenti dei gel ecco ci sono tutti i gel color qua dietro invece c'è il poggiamani è la scatola bella dei pennelli mi piace tantissimo ancora non sono riuscita a buttare però dentro c'è il porta pennelli bello e invece in queste scatoline adesso vi faccio vedere c'è nel primo tengo tutti i semi permanente e in queste scatoline invece tengo i pad nel secondo ci sono non riesco ad aprirlo con una mano si ce la fa l'ho decorata altra scatola da scarpe anche questa scatola di scarpe che ho decorato io con i washi tape ecco qua tengo le cartine alcuni pezzi doppi del semi permanente vedete ci sono anche questi stavo pensando di fare un pensierino quindi così è tornato indietro non è più preciso vabbè dopo lo sistemo in questa invece ci sono le yankee votive e nell'ultima ci sono i dischetti alcune cose sono proprio da finire di sistemare meglio ma diciamo che sono contenta pian piano la sistemerò ulteriormente e quindi questa ragazza è il mio angolino make-up è tutto per me spero che vi piaccia fatemi sapere che ne pensate aspetto di leggervi nei commentini se vi è piaciuto mi raccomando spolliciate iscrivetevi per non perdere i prossimi video attivatela din-don campanella io aspetto di leggervi mi fa tanto piacere vi mando tanti tanti super baciottissimi e se vi va ci vediamo al prossimo ciao